Ultima giornata dei mondiali di tirassegno di Granada, siamo estremamente soddisfatti, abbiamo preso un argento anche oggi con Dario Di Martino nella pistola a 25 metri, è stata una grandissima giornata. Poi Dario da buon napoletano ha detto che ci ha messo lo zampino anche San Gennaro, è stato veramente, lui è un grande atleta, un grande campione, è stata una giornata veramente eccezionale. Al termine di 15 giorni di gare dure dove abbiamo fatto un bel bottino di medaglie, 5 medaglie in tutto, un oro, 4 argenti, gli junior si sono comportati benissimo. Nelle nostre solite sfide all'interno della squadra mi sa che hanno quasi vinto perché con 4 argenti hanno fatto veramente una prestazione eccezionale e questo ci fa ben sperare per il futuro. Poi in campo senior abbiamo preso anche oltre al loro di Petra, oltre al quarto posto di Petra nelle tre posizioni che è mancato il bronzo per un decimo, insomma quindi una prestazione eccezionale in quella che era la sua gara. Abbiamo preso in tutto tre carte olimpiche, siamo soddisfatti, siamo mancati un po' in specialità quali la pistola e penso che ci dovremo lavorare un po' su, però i ragazzi erano in forma, non sono riusciti a concretizzare in questa gara. Vedremo il prossimo anno dove concorreremo appunto per le carte a partire dalle coppe del mondo, non dagli europei 10 metri, ma penso che le premesse siano buone. Noi usciamo da questa gara molto soddisfatti.